Per Assisi News con il sindaco di Assisi Stefania Proietti, un piacere per noi della redazione venirla a trovare. Assisi dopo un periodo molto complesso e complicato dovuto alla pandemia sembra finalmente essere tornata a vivere. Sì caro direttore, intanto grazie per questa possibilità che mi dai di parlare ai tanti i nostri cittadini che vi seguono sui tanti canali social e della rivista che dirigi. E sì, siamo tornati a vivere, a vivere di quel carisma che ci caratterizza che è l'accoglienza e del quale abbiamo sentito tanto la mancanza nei periodi pandemici. Qualità insolita per le città turistiche che parlano di tornelli, di overturism. Ad Assisi si è sentita davvero la mancanza dei pellegrini, dei visitatori, dei turisti e non solo per un fatto economico. Da settembre possiamo dire i dati ci fanno ben sperare, da settembre 2022 perché abbiamo finalmente superato, raggiunto e superato su alcuni indicatori i dati pre-covid, i dati pre-pandemia. Lo stiamo vedendo anche con una certa destagionalizzazione, anche con delle prenotazioni molto interessanti per il periodo natalizio. E si è tornati alla vita non solo per i flussi turistici ma anche un po' proprio per la normalità che abbiamo potuto riacquistare, respirare. È chiaro, è un periodo difficilissimo, è un periodo pieno di incertezze, è un periodo in cui la crisi energetica ha preso il posto purtroppo della crisi pandemica. È un periodo anche, come fanno notare molti indicatori, in cui rischia di vincere la tristezza. Per questo benvengano momenti come questo in cui possiamo dire che invece il nostro momento veramente come città turistica e come città non solo, anche come città simbolo, città messaggio di Papa Francesco, città messaggio dei valori francescani, è importante, è importante questa luce che si accende su Assisi e che spesso più da fuori delle mura urbi che è da fuori del perimetro della città ci fanno notare, cioè quanto in questi anni Assisi come immagine stia davvero brillando, come immagine di capitale e di valore. L'ha detto lei anticipandomi non solamente cose positive in questa ripartenza, ma appunto c'è da fare i conti anche con la crisi energetica e con il caro Bollette. Cosa sta facendo per affrontare queste problematiche il Comune di Assisi e cosa avrà intenzione di fare nel prossimo futuro? Caro Bollette che purtroppo è veramente trasversale, è un problema di tutti, delle famiglie, delle imprese e anche dei comuni, questo forse si dice poco quanto il problema incida sui comuni, perché va a incidere proprio su quella parte di spesa corrente che abbiamo visto appunto per quanto riguarda le spese energetiche esplodere, lo abbiamo visto in tutti gli enti pubblici, in un momento in cui calano anche le entrate correnti. Un esempio legato al nostro turismo, ecco la pandemia ci ha portato tre anni in cui gli incassi dell'imposta di soggiorno sono dimezzati e gli incassi del nostro sistema di parcheggi stellari si sono pressoché annullati per effetto del sistema sopra soglia, non entro nel tecnicismo. Quindi un calo di entrate correnti, una spesa corrente energetica che esplode, un momento congiunturale difficilissimo. Cosa fa il Comune? Intanto abbiamo iniziato una campagna, per la verità, era iniziata ben cinque anni fa con il piano d'azione per l'energia e l'ambiente che oltre a ridurre la CO2 tendeva a ridurre i consumi in particolar modo degli enti pubblici e questo piano si attua negli enti pubblici con gradualità. Proprio ieri abbiamo approvato in giunta la delibera che ci farà sostanzialmente efficientare tutti gli oltre 8500 punti luce pubblici del Comune di Assisi. Molti avevamo già iniziato a renderli a led, gli altri gradualmente, perché appunto sono tanti, diventeranno tutti a led e questo ci consentirà di gradualmente ridurre il nostro consumo energetico per illuminazione pubblica di oltre il 70%. In questo momento abbiamo dovuto chiedere anche ai cittadini dei sacrifici, un esempio, lo spegnimento in alcuni momenti delle luci pubbliche, la rinuncia all'illuminare. Sono momenti duri, sono momenti duri nel mondo forse più che per noi e come ha detto Papa Francesco andiamo verso un Natale anche di sobrietà, anche con un senso morale di partecipazione a chi veramente vive l'energia come un'arma, come vediamo purtroppo in Ucraina. Cosa facciamo poi a livello appunto di pianificazione, ecco puntiamo tantissimo sulle comunità energetiche e su questo vogliamo essere i primi e con una grande alleanza con i nostri imprenditori perché vedremo fiorire impianti fotovoltaici perfettamente integrati nei nostri eccellenti e nelle nostre eccellenze industriali che già esistono e stiamo facendo con loro la comunità energetica di Assisi, il comune, i soggetti che magari hanno delle difficoltà economiche, le nostre industrie che si stanno dotando di tetti fotovoltaici che daranno una parte dell'energia prodotta da rinnovabile anche al nostro territorio protetto che rimarrà tale perché appunto gli impianti saranno collocati sui tetti delle nostre industrie. Questo l'abbiamo lanciato lo scorso aprile con Confindustria, con i nostri imprenditori che sono sempre delle eccellenze. Quindi momento di crisi sì, però anche momento in cui da cui non si tornerà indietro nella scelta del disinvestimento dalle fonti fossili. Sempre con positività, quella che lei certamente avrà visto in quello che è l'operato di questo suo secondo mandato. Lei è stata rieletta a sindaco di Assisi, vincendo tra l'altro al primo turno. Si può già fare un bilancio di questo periodo. Quali sono stati i momenti più belli, più interessanti che ha vissuto dalla rielezione? Sì, veramente una rielezione che non possiamo mai dimenticare. È avvenuta il 3 e 4 ottobre del 2021, quindi il giorno della festa di San Francesco. E se penso da quel giorno che ci ha dato un orizzonte nuovo, quindi altri 5 anni a servizio dei cittadini per compiere quel percorso che la pandemia dopo, il terremoto prima e anche l'inesperienza iniziale avevano in qualche modo rallentato, avere 5 anni per percorrere quella strada tracciata è stato già un grande sospiro di sollievo, una grande ripartenza. E di questi momenti, di questi mesi, tra i momenti più belli sicuramente c'è stata l'approvazione della legge sul centenario, 8 centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Una legge approvata, lo voglio ricordare a camere sciolte, l'ultima legge approvata dal governo Draghi, la legge 140 del 15 settembre 2022, che sancisce che il centenario, questo 8 centenario francescano è un passaggio culturale non solo per Assisi o per l'Umbria, per l'Italia direi e dico a livello internazionale anche perché arriverà l'anno successivo al giubileo. E noi nei centenari ci stiamo già immergendo perché io voglio ricordare che il 23 dicembre sarà qui il comune di Greccio e in forza del nostro patto di amicizia apriremo il periodo dei centenari perché nel 2023 saranno 800 anni dall'invenzione del primo presepe. È sempre a cura di un nostro concittadino. E ti posso dire anche tra gli altri momenti bellissimi la festa di San Francesco che ha ringraziato l'Italia che ci ha fatto uscire dalla pandemia con il Presidente della Repubblica che ha acceso la lampada dei comuni d'Italia, il generale Figliuolo, tante altre personalità e molti altri momenti tra i quali non posso dimenticare l'avverarsi di un sogno che era partito nel 2020 che la pandemia ci ha bloccato. Vedere Papa Francesco qui nel teatro comunale Lyric in mezzo a mille giovani che hanno creduto nel progetto di Economy of Francesco. Rifondare l'economia mettendo al centro le persone, i più fragili, l'ambiente a partire da Assisi. Un sogno grande, un cambiamento epocale che parte da Assisi e che proseguirà nel tempo perché appunto ci è stato annunciato che ci sarà una periodicità di questo grande evento. Sempre la capitale dei valori Assisi. Sindaco, che risponde a chi dice che lei avrà un futuro più ampio a livello politico? Lei dice sempre io amo Assisi, sono qui ad Assisi. Sì perché io sono anche presidente della provincia di Perugia e questo è un grande onore ed è un ruolo che io ho accettato candidandomi solo per un motivo, non era alternativo al fare il sindaco, anzi fare il sindaco è il prerequisito per diventare presidente della provincia. Questo amplia gli orizzonti, ci dà più possibilità, anche valoriali, voglio solo ricordare per esempio la marcia della pace Perugia Assisi che abbiamo fatto in edizione purtroppo speciale perché è stata fatta il 24 aprile scorso, ecco mette insieme queste due realtà appunto il capoluogo, la provincia e la città che per me da sindaco lo posso dire è la più importante dell'Umbria. E io ritorno a quanto dicevo all'inizio, io e la squadra che mi accompagna, i consiglieri comunali, siamo stati eletti il 3-4 ottobre, questo non ti lascia indifferente nel mandato, per cui secondo me Assisi può dare tanto, sta dando tanto alla provincia di Perugia, chiaramente anche lì in una squadra fatta di tante personalità e può dare tanto alla regione Umbria e all'Italia e quindi penso di averti già risposto. Io vedo il mio destino ad Assisi nella speranza di poter traguardare questo orizzonte eccezionale del passaggio culturale del centenario, dell'ottocentenario francescano, ricordando appunto che tutti gli anni che ci avvicinano a quel 2026 sono importanti e anche ricordando a me, a noi che abbiamo l'onore di amministrare la città, ai nostri cittadini che ci seguono che deve essere un traguardo partecipato, che abbiamo un'occasione unica per ritrovarci in una visione di città e io qui cito Gemma Fortini, ho sotto mano questo fresco di stampa Arnaldo Fortini e la città di Assisi, gli atti dell'incontro di studio che abbiamo promosso, realizzato lo scorso anno e cito Gemma Fortini dicendo l'Assisi rinnovata, nel 2026 vogliamo vedere essere protagonisti dell'Assisi rinnovata, quindi io vedo il mio destino ad Assisi. E quindi per concludere questa piacevole intervista, siamo alle porte del Natale, arriva un nuovo anno il 2023, quale è la speranza e quale è l'augurio da rivolgere in qualità di sindaco di Assisi e di presidente della provincia di Perugia ai cittadini e alle comunità? Intanto l'augurio sicuramente è di un anno di pace, di serenità, di gioia direi e di speranza, agganciamoci alla speranza, deve essere il nostro baluardo, perché la speranza non possiamo, anche se si normalizzano queste crisi enormi che vediamo in accelerazione continua, ma se non abbiamo la speranza perdiamo tutto. Quindi l'augurio che faccio alle cittadine, ai cittadini di Assisi e della provincia di Perugia, di cui stiamo prendendoci cura come fosse un comune più grande, quindi con la stessa passione, perché è la nostra terra. L'augurio che faccio è quello di vivere questo Natale come un lancio verso un anno nuovo che sia di speranza, in cui si possa sperare di essere gioiosi dentro e di dare gioia e di portare gioia a chi veramente non ce l'ha, anche a chi è fuori dai nostri confini, a chi abbiamo ospitato qui, mi riferisco anche all'ospitalità del popolo ucraino che abbiamo potuto fare, anche a chi ha meno, anche a chi è in difficoltà economica, anche alle imprese che vivono una difficoltà economica. Quindi speranza, la forza di darci la gioia e di dare questa luce fuori da qui. Io dico che la nostra città, facendo un po' mio quel detto che ci piace dire, che ha un'origine nelle fonti clariane, Assisi avrà guai, ma non perirà mai. Ecco, siamo una città che emana una luce, portiamola oltre Assisi a tutti e viviamo di quella luce, per arrivare a un Assisi rinnovata, l'Assisi che vogliamo da costruire insieme verso il 2026. Sindaco e Presidente, grazie e tanti auguri di Buon Natale. Grazie Direttore, Buon Natale a te, grazie per il tuo lavoro e soprattutto un Buon Natale a tutti voi e a tutti noi.